Il quorum è davvero lontano, ha votato solo il 31,18% degli aventi diritto, il referendum sulle trivellazioni in mare non è valido. Nella marca i votanti sono stati un po' di più, il 37,5%, comunque pochi rispetto al resto del Veneto, solo nelle province di Verona e Belluno si è votato meno che a Treviso. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi parla di 300 milioni buttati e legge il risultato delle urne come la vittoria degli ingegneri impiegati ed operai che hanno mantenuto il posto di lavoro e la sconfitta di quei presidenti di regione che hanno cavalcato a tutti i costi questo referendum per esigenze personali. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, che aveva sostenuto la causa del sì, risponde così. Il presidente Renzi secondo me ha qualche problema con la matematica. Hanno votato per il sì 13 milioni di italiani, quindi sta rispondendo a 13 milioni di italiani che hanno votato sì che di fatto è diventato il referendum contro di lui, ma perché se l'è voluto lui intestare così? Perché la volontà nostra era quella, in maniera trasversale, destra e sinistra, di dire no a concessioni all'infinito per l'estrazione del petrolio e del gas. I cittadini sappiano che da oggi le concessioni sono all'infinito. Due, in Veneto è andata la grande perché abbiamo avuto più voti delle ultime regionali, abbiamo avuto 1 milione e 191 mila cittadini veneti che hanno votato per il sì e non mi sembra che chi ha votato per il sì andasse d'accordo con Renzi. Quando abbiamo fatto le ultime regionali abbiamo avuto 1 milione e 100 mila voti, quindi 91 mila voti in più, se allora avevamo 50% oggi abbiamo quasi 60. Da Campo San Piero, in occasione dell'inaugurazione della nuova patologia neonatale, Zaia accoglie l'occasione per fare il punto sulla situazione della sanità regionale anche alla luce della recente riforma. Riconvertiamo qualche realtà ma non chiudiamo, quindi quando i cittadini si sentono suonare il campanello di casa e qualcuno gli va a dire Zaia vuoi chiuderti l'ospedale, un calcio nel sedere la soluzione migliore a dare a questo qualcuno.